Sette nuovi comuni marchigiani a rischio zona arancione. Prima giornata di zona gialla per Vallefoglia e Montelabate. Isole pedonali in zona mare, ecco come cambia la viabilità dell'estate pesarese. Falso testamento e conto in banca prosciugato a un anziano, denunciata la badante. Buonasera, oggi è mercoledì 5 maggio, come sempre l'appuntamento con il nostro telegiornale sul canale 633. Questa sera apriamo parlando di diverse tematiche riguardanti la sanità nella nostra regione Marche. Oggi sono infatti arrivati 5.000 vaccini Pfizer e il presidente Francesco Acquaroli ha preannunciato come a giorni si apriranno le prenotazioni per i marchigiani compresi fra i 60 e 64 anni. Intanto però emergono sette nuovi comuni a rischio di zona arancione rinforzata. Vediamo quindi tutti gli aggiornamenti in questo nostro primo servizio. Nelle mercoledì in cui Vallefoglia e Montelabate sono tornati in zona gialla, spuntano sette nuovi comuni marchigiani che entrano nell'osservatorio regionale che li mette a rischio di zona arancione rinforzata dopo essere risultati avere una incidenza superiore ai parametri dei 250 nuovi casi su centomila abitanti. Si tratta di Acqualagna, Petriano e Fossombrone nella provincia pesarese, Montappone nel Fermano, Folignano, Acquaviva Picena e Castel di Lama nella provincia di Ascoli Piceno. Mentre tre comuni uscivano dalla zona arancione rinforzata ci sono dei comuni che entrano nell'osservatorio per la prossima settimana che speriamo che siano dei casi singoli e isolati quelli che si sono verificati altrimenti altri rischiano di andare nella zona arancione rinforzata. Noi dobbiamo essere attenti perché, come avete visto, siamo passati da 160 terapie intensive a 70. In due settimane e mezza c'è stato un dimezzamento delle terapie intensive, ma poi nelle due settimane successive non riusciamo a scendere sotto i 70, siamo a 69. Che cosa significa? Significa che ancora c'è un livello di occupazione delle terapie intensive che è elevato, intorno al 30%. Questo non ci può rendere tranquilli. Intanto nelle marche sono arrivate oggi 52.000 dosi di vaccino Pfizer. Acquaroli ha ringraziato l'attenzione del generale Figliuolo per una boccata d'ossigeno che consente di rimettere a pieni giri la macchina di somministrazioni regionali e pensare di aprire nel giro di pochi giorni le prenotazioni alle fasce d'età, comprese tra i 60 e i 64 anni. Questo significa che con queste dosi intanto abbiamo un grande respiro di sollievo. Considerate che noi anche oggi siamo primi in Italia, quindi significa che noi abbiamo una capacità di vaccinazione molto, molto, molto elevata e quindi è chiaro che con una capacità di vaccinazione molto elevata consumiamo molto velocemente le nostre dosi percentualmente la dimensione della nostra regione. Questo serve anche a dire un altro elemento molto importante che avendo una capacità di vaccinazione molto elevata abbiamo una richiesta di vaccini che è molto elevata. E dunque come ricordato in questo primo servizio oggi è stato anche il primo giorno in zona gialla per Montelabate e Vallefoglia che dal 21 aprile erano stati diciamo così confinati in zona arancione rinforzata. Ascoltiamo allora i commenti e le novità da parte dei sindaci di questi due comuni che sono stati intervistati da Andrea Sabatini. Speriamo che duri questa cosa perché i dati invece in mio possesso dicono che abbiamo sempre avuto quei numeri lì. Quindi non lo so, io mi auguro che da qui almeno fino alla fine dell'anno saremo sempre gialli, anzi per tornare proprio bianchi. Quello che un po' vorrei, non voglio proprio fare una polemica però io so per certo che ci sono dei comuni anche vicino al mio a Montelabate che hanno dei dati superiori a questo indice e non è stata applicata la stessa misura perché a oggi non c'è un'ordinanza restrittiva nei confronti di nessun comune marchigiano. Ecco questo come dicevo l'altra volta non lo ritengo molto corretto perché se si applica, se si prende una strada bisogna portarla avanti sempre a prescindere di chi si incontra sulla propria via. Spero che il Presidente abbia capito il mio discorso ieri inerente alla zona industriale perché comunque ripeto noi accogliamo tantissime persone che vengono da fuori, da Fano, da Rimini, da San Ludecio, insomma da Urbino, da Fermignano, perciò c'è una bella mobilità, credo che abbia capito, vediamo perché io penso che il nostro veicolare avviene solo tramite lì. Ho avuto modo di spiegare che questa è un'area omogenea su cui ricade tutto su Vallefoglie in conto che tu fai i conti su 50.000 abitanti, in conto che lo fai su 15.000, chiaro che sballa tutti i parametri, la norma prevede diciamo in un quadro provinciale operare omogenee, però è andata così. Adesso bisogna continuare a restare attenti perché come si è visto in Sardegna si può passare dalla zona bianca alla zona rossa, ma poi soprattutto bisogna fare tutti i vaccini. Francamente sono un po' preoccupato perché vedo che non vanno avanti quei vaccini. Sale dal 9,3 al 10,9% la percentuale di contagi nella regione Marche rispetto alla giornata di ieri. Nello specifico oggi sono 278 i nuovi casi su 2.546 nuove diagnosi per un totale di 4.559 tamponi processati. Sono invece 55 i nuovi casi emersi nella provincia di Pesaro-Urbino. Nella giornata di ieri inoltre ci sono stati anche due decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. Lo abbiamo detto e ricordato in diverse occasioni nei nostri programmi di approfondimento che a giugno torna la pedonalizzazione in Viale Trieste. Ci sarà un'isola pedonale in piazzale d'annunzio e cambierà la viabilità anche di via Castelfidardo. Tanti quindi gli interventi nell'estate della zona mare pesarese come ci vengono illustrati in questa prossima intervista all'assessore Enzo Belloni. La zona mare si prepara all'estate fra novità, fra conferme di novità recenti come quella della pedonalizzazione di Viale Trieste dello scorso anno che viene confermata. Qui in particolare ci troviamo in piazzale d'annunzio che è uno dei punti, vediamo, sottoposta ad asfaltature che prevede una delle modifiche principali di questa stagione. Sì, diciamo che anche questa è una sperimentazione. Questa parte di Viale è solitamente un pochino più spenta rispetto all'altro, Viale Trieste. Noi stiamo dando l'incarico di progettazione di piazzale d'annunzio già per la prossima stagione estiva. Un piazzale che si allinea in qualche modo con Piazzale La Libertà. Nel frattempo ci siamo portati avanti un pochino con il lavoro facendo che cosa. Cambiando il tracciato della ciclabile, quindi andrà di rito, non farà più questa semicurva sul lato di Via Nazario Sauro per dare la possibilità ai locali di mettere fuori i tavolini e di occupare un suolo pubblico. La stessa linea che abbiamo tenuto del resto su Viale Trieste dove partendo dal Covid e poi prendendo anche al balso la palla del parcheggio di Villa Marina abbiamo sperimentato la pedonalizzazione del Viale. In sostanza il nostro obiettivo era quello di dare spazio ai locali del Viale e provare ad abbellire la passeggiata con nuove luci, con sedute e con fioriere. Questo sarà un intervento ovviamente non definitivo perché stiamo cercando di aggredire il Recovery Fund, di recuperare risorse importanti da investire nella città e uno degli interventi che vogliamo prevedere è la riqualificazione di Viale Trieste ovviamente. È una riqualificazione che ha un costo stimato attorno ai 3 milioni e 3 milioni e mezzo quindi noi vogliamo pensare che nella soluzione di quest'anno sia una soluzione che ci permetta poi di recuperare gli arredi che abbiamo acquistato e che posizioneremo già alla fine di maggio e primi di giugno e che ci dà una prospettiva nuova del Viale, un Viale che dovrà essere carrabile in alcuni mesi dell'anno e pedonale nei mesi estivi. Oggettivamente penso che la pedonalizzazione si è andata bene l'anno scorso soprattutto nel pomeriggio e la sera, qualche problema in più al mattino tant'è che abbiamo aumentato di un'ora l'accesso per i carichi e scarichi per le attività commerciali. Altre due novità saranno ai margini tra zona mare e centro storico, via Castelfidardo e il vecchio Palasport o nuovo auditorium come lo vogliamo chiamare che saranno due facce che cambieranno della nostra città. Su via Castelfidardo sperimentiamo anche quest'anno una ZTL più spinta con APU, con pedonalizzazione, è una strada d'accesso al centro storico importante che due o tre anni fa abbiamo già riqualificato. Il Palastetto dello Sport ovviamente è uno di quegli interventi a cui questa giunta tiene maggiormente. I lavori finalmente stanno andando spediti, la ditta che sta facendo i lavori, la GM di Fano sta lavorando bene, come potete vedere adesso stanno montando, hanno iniziato i lavori per montare il tetto, si sta lavorando per avere almeno un'agibilità parziale già per l'evento della ginnastica che è previsto a Pesero dal 20 settembre al 10 ottobre e per avere la possibilità di ospitare o almeno un concerto di chiusura del ROF per giugno appunto 2021. Ed ora passiamo alla cronaca. Appropriazione indebita e circonvenzione d'incapace sono questi reati che hanno portato alla denuncia di una badante ucraina che aveva svuotato il conto in banca del suo anziano assistito e che aveva pure presentato un falso testamento per farsi intestare gli appartamenti. Un'operazione della Guardia di Finanza che ci viene spiegata appunto nel prossimo servizio. Finisce nei guai una badante ucraina di 73 anni scoperta dalla Guardia di Finanza di Pesero nell'approfittarsi in maniera spregiudicata del suo anziano assistito incapace di intendere di volere. La donna gli aveva infatti svuotato il conto in banca ed era pure riuscita a farsi intestare due immobili presentando un falso testamento olografo che la autoproclamava come unica erede dell'anziano che era deceduto a fine 2020 dopo aver sofferto per anni di gravi patologie cardiache. La Guardia di Finanza di Pesero ha però scoperto l'attività illecita avviando le indagini su disposizione della procura. Indagini che erano state sollecitate dalla richiesta dell'amministratore di sostegno dell'anziano che si era accorto come i conti non tornassero. Le indagini di polizia giudiziaria hanno infatti scoperchiato sospetti movimenti di conti correnti con flussi di denaro a beneficio della badante di ben 60.000 euro così come hanno scoperto il fatto che la donna pochi giorni dopo la morte del suo assistito si fosse presentata da un notaio pesarese con tanto di testamento in cui era previsto il trasferimento a suo favore dei due immobili di proprietà dell'anziano. Le indagini hanno però evidenziato come la data dell'atto scritto in stampatello fosse successiva a quella indicata nel verbale redatto dalla commissione medica che aveva riconosciuto la totale incapacità dell'anziano ad adempiere ai normali atti della vita quotidiana. Ad aggravare il tutto il fatto che la donna avesse presentato una dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate indicandosi come unica erede sebbene al contrario vi fosse già la presenza di una persona con tale status. La scaltra badante è stata così denunciata per appropriazione indebita e circonvenzione di incapace e le sono state sequestrate le somme e gli immobili illegalmente sottratti. La polizia di Fano e la polizia stradale hanno arrestato a Marotta un pregiudicato sul quale pendeva un provvedimento di fermo emesso dal tribunale di Siena in quanto l'uomo risultava essere componente di una banda di ladri specializzata in furti alle banche tramite la cosiddetta tecnica della spaccata, vale a dire frantumare le vetrate utilizzando macchine o furgoni come arieti. Il pregiudicato è stato sottoposto a custodia in carcere. A pochi giorni dalla riapertura dei luoghi della cultura la Regione Marche ha stabilito misure di sostegno ai lavoratori dello spettacolo per una cifra compressiva di 970 mila euro, sostegni che sono stati decisi dopo un'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali e le associazioni di settore Asso Artisti, CAM e Agis Marche. Saranno interessati da questi benefici circa 1.100 lavoratori ai quali verrà assegnato un contributo una tantum di massimo 700 euro che integrerà i sostegni nazionali. Per la prima volta in provincia di Pesaro Urbino ci sarà una moschea, si chiamerà Moschea Alnur che significa luce e sarà situata a Fermignano come deciso dall'ultimo consiglio comunale che ha votato all'unanimità la modifica al piano regolatore che riconosce allo stabile di via Donizetti 3 di proprietà dell'Associazione Culturale Islamica di Fermignano lo status di luogo di culto a tutti gli effetti. E ora spazio alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a mandarci al nostro numero che vedete in sovrimpressione attraverso la messaggistica di Whatsapp. Le foto inviateci da un nostro telespettatore mostrano, pensate, come in via Poliziano vicino al Ponte del Genica in zona Muraglia ci siano lavori fermi da oltre un anno, foto che segnalano pure la presenza di sterpaglie ed erbacce lungo il torrente che sottolineano ulteriormente lo stato di trascuratezza. Non solo Pesaro ma anche Urbino e Cagli avranno il loro centro antiviolenza, si ampliano dunque gli sportelli d'ascolto ai casi di abusi, stalking e violenza a sostegno delle donne della provincia. Dopo 11 anni di presidio sul territorio concentrato sulla città di Pesaro, dalla prossima settimana i centri antiviolenza della provincia si triplicano allargandosi verso l'entroterra. A Cagli ogni lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e a Urbino ogni martedì alla stessa ora. Quattro ore in cui le operatrici dei centri parla con noi legate alla cooperativa labirinto e all'associazione di volontariato percorso donna offriranno assistenza sociale, psicologica e legale alle donne del territorio che subiscono violenza fisica, abusi sessuali, stalking o ogni altro genere di privazione della libertà. Una rete che si allarga che è stata presentata nel comune di Pesaro alla presenza delle responsabili del centro, degli assessori Sara Mengucce e Giuliana Ceccarelli e del collegamento in videoconferenza dell'assessore alle pari opportunità di Urbino Marianna Vetri e dell'assessore alla solidarietà di Cagli Simona Palazzetti. Eravamo l'unica provincia che ancora non aveva sportelli territoriali e quindi siamo molto contenti a 12 anni dalla nascita del centro di così aprirci e di riuscire ad accogliere in questa maniera sicuramente molte più donne. Siamo certe che il numero di donne che faranno accesso aumenteranno di tanto, anche se in effetti il centro antiviolenza di Pesaro è già da diversi anni il centro che ha il maggior numero di accessi rispetto a tutti i centri antiviolenza delle Marche. Dal 2016, da sempre comunque dall'apertura, siamo andati in progressione e negli ultimi anni abbiamo rispetto ad alcune province anche un numero di accessi che è il doppio o il triplo. Come dicevo prima in conferenza stampa, non perché ci sia più violenza ma perché è un servizio che si è fatto conoscere. Le forze dell'ordine, gli ospedali, i servizi sociali ne hanno colto le importanze e quindi nel momento in cui una donna si presenta al pronto soccorso, nel momento in cui una donna si presenta in caserma per una denuncia, gli viene data la possibilità, gli viene messa conoscenza del fatto che c'è un centro antiviolenza e solitamente poi le donne arrivano a noi e a quel punto noi cominciamo a lavorare collegate con le forze dell'ordine, con i servizi sociali, con gli ospedali per fare questa rete di protezione e di accompagnamento verso l'uscita. Perché è comunque vero che è importante il centro antiviolenza ma come dico sempre, se noi non ci colleghiamo in rete con il resto dei soggetti che fanno parte della rete antiviolenza, le donne le mettiamo in pericolo perché se non abbiamo vicino a noi le forze dell'ordine, ripeto, gli ospedali, i consultori per tutto quello che riguarda la violenza assistita, il lavoro con i bambini, con gli adolescenti che assistono nella maggior parte dei casi alle violenze domestiche, non andremo da nessuna parte. Oltre alla sede di Pesaro in via Diaz 10, Parla con noi si allarga dunque alle nuove sedi di Cagli in via Lapis 10 e di Urbino in via Sasso 122, tre centri per rispondere ad esigenze d'ascolto crescenti. Fino all'anno scorso avevamo una media di circa 50 donne in carico, ad oggi sono 57, come dicevo non sono 57 dall'inizio dell'anno ad oggi, ma sono le donne che ad oggi stiamo seguendo. È un lavoro, le operatrici presenti sono come operatrici dell'accoglienza che sono le persone che accolgono all'inizio del percorso la donna, avvocate e psicologhe. Queste tre figure professionali, abbiamo tra l'altro da diversi mesi un assistente sociale, queste quattro figure professionali collegate a tutto il resto dei soggetti della rete antiviolenza fanno questo lavoro e voglio dire anche che nella maggior parte dei casi le donne escono dalla situazione di violenza, perché questo forse si dice un po' troppo poco, nella maggior parte dei casi i percorsi hanno un esito positivo, lo dico anche perché voglio incoraggiare chiaramente tutte le donne a prendere quel telefono, magari ci chiamano solo, magari solo una telefonata, non importa, venire a un centro di violenza non significa subito denunciare o fare chissà che, di questo le donne sono spaventate. Con noi si può anche venire solo a fare una parola, a raccontarci cosa succede. Da 23 anni la Fondazione Filippo Fattori premia gli studenti con affezioni neurologiche che eccellono però nel rendimento scolastico. Quest'anno il bando per inoltrare le domande scade il 15 maggio, quindi mancano davvero pochi giorni, allora vi spieghiamo meglio come poter accedere in questo prossimo servizio. Ultimi giorni per presentare domanda alla ventitresima edizione del premio che la Fondazione Filippo Fattori conferisce ogni anno agli studenti di scuole di primo e secondo grado della provincia di Pesaro e Urbino affetti da distrofia o affezioni di natura neurologica che hanno frequentato con profitto l'anno scolastico 2019-2020. C'è tempo fino al 15 maggio per inoltrare le proprie candidature alla Fondazione Filippo Fattori che rispetto agli anni scorsi segnala un calo di domande. Il bando è stato pubblicato il 15 febbraio, mandato a tutti i giornali che l'hanno a loro volta pubblicato, mandato al preveditorato degli studi che dovrebbe averne dato comunicazione a tutte le scuole medie, inferiori e superiori della provincia e in più l'abbiamo mandato per ben due volte a tutte le scuole che già l'anno scorso avevano presentato domanda. Il punto è che ad oggi sono arrivate solo sei domande di due scuole e il bando ha messo come termine di scadenza il 15 di maggio. Non è una cosa che potremmo anche superare di qualche giorno, magari fino al 30 maggio, però è strano visto che gli anni scorsi le domande sono state sempre da 80 a 100, quindi c'è qualcosa che è venuto a mancare. C'è dunque tempo fino al 15 maggio per consegnare alla Fondazione Fattori in via Passeri 159 le domande accompagnate da certificazione medica e parere del Consiglio di classe. Nell'edizione 2020 la Fondazione Fattori ha premiato 55 studenti. 55 studenti perché ogni anno il minimo di studi è di 50, fino a quest'anno sono stati 703. E concludiamo con alcune notizie riguardanti lo sport. Infatti Fulvio Colini sarà l'allenatore dell'Ital Service anche per la stagione 2021-2022. Il tecnico, che è arrivato nel 2018, ha rinnovato per la terza volta con la società pesarese appunto dell'Ital Service. Nelle settimane scorse lo stesso Colini ha ricevuto per il secondo anno di fila il premio come miglior allenatore dell'anno, vincendo la panchina d'oro. E questa era l'ultima notizia, siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale di questa sera e quindi vi andiamo a informare su quella che sarà la programmazione appunto della nostra prima serata. Intanto alle 21.15 una nuova puntata della Nutrizionista Km0, questo bel programma che racconta l'entroterra, racconta i prodotti tipici del nostro territorio. E poi a seguire ci sarà invece uno spazio dedicato alle aziende e all'economia, in collaborazione con BP Cube, con Francesco Balducci che è CEO di Manifattura, ed Enrico Battistelli che è il fondatore di BP Cube, quindi non perdetevi questo interessante appuntamento. Ho detto davvero tutto, adesso per voi c'è il meteo dei prossimi giorni, invece l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7.20 in diretta con il nostro Buongiorno Rossini.